Forse questa volta ci siamo davvero. Questo è almeno l'auspicio degli amministratori locali e non solo, che negli ultimi anni hanno assistito ad una serie di rinvii, rimandi e ritardi. La questione è quella della demolizione dell'ex base nato di Cimagrappa, dismessa da molto tempo e trasformatasi in un rudere incompatibile con il progetto di sviluppo e rilancio storico, culturale e ambientale dell'area. Ebbene, mercoledì è stato firmato l'accordo tra il commissariato generale per le onoranze ai caduti e la struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della presidenza del Consiglio dei Ministri, oggetto dell'intesa la demolizione dell'ex base nato, degli edifici annessi e del traliccio presso il sacrario militare di Cimagrappa. Per smuovere le acque si era mosso più volte in passato il sindaco di Serendelgrappa, uno dei tre comuni maggiormente interessati dal recupero dell'area del sacrario e dell'intero massiccio, ora candidato anche a riserva di Biosfera Unesco. La firma di ieri è certamente un passo in avanti molto positivo verso l'obiettivo che tutti stiamo aspettando, sia quello dell'abbattimento dell'ex base nato, ma anche della valorizzazione e restauro del sacrario del Monte Grappa. Su questo in tantissimi ci stiamo lavorando, tutti i comuni del circondario del Grappa, ma anche tante persone che in passato, dalla senatrice Bellot, alcuni anni fa e dall'onorevole Tondo quest'anno, si sono impegnati anche a livello romano per tenere sempre alta l'attenzione. Questo è un elemento che cade anche positivamente lungo il percorso che stiamo portando avanti per la riserva di Biosfera del massiccio del Grappa. Quindi credo che il 2021 possa partire davvero con un passo davvero positivo. In base all'accordo il Ministero della Difesa dovrà elaborare la progettazione degli interventi e fornire assetti militari dell'esercito per la demolizione, mentre la struttura di missione si farà carico degli oneri finanziari per l'attuazione dell'intervento, nonché per le attività di smaltimento dei materiali di risulta.